Un'altra spaccata, un negozio di ottica, si è verificata sempre in via Berlinguer, nello stesso complesso dove è collocata ottica Bovesi, colpita dai ladri la settimana scorsa. Questa volta, a subire un furto, stimato attorno ai 5.000 euro di paia di occhiali, è stato ottica Forlini, poco prima delle ore 2.30 della notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile. Le modalità messi in atto dai malviventi per scappare con il bottino sono state le medesime riservate a ottica Bovesi. Si sono serviti di un tombino e hanno fatto eruzione nel negozio. I lavori per rimettere in ordine sono durati per tutta la mattinata, senza impedire di aprire alla clientela.